La gente rassegnata non crede più ad un possibile cambiamento. Le denunce non servono a niente. A telecamere spenti i cittadini di Torre del Greco si chiedono e ci chiedono che senso abbia continuare a documentare una situazione che di fatto è sempre la stessa. Strade sporche, rifiuti abbandonati, erba alta, in zone più visibili e meno visibili, senza contare le mini discariche abusive, come quella in via Cupa San Pietro, a pochi passi da via Calastro. Ingombranti, sacchi neri, rifiuti di ogni tipo, ma soprattutto un cattivo odore nauseante. Una stradina di passaggio, per fortuna non troppo vicina alle abitazioni. Tuttavia, se una parte della cittadinanza si dichiara stanca e rassegnata, un'altra invece continua a segnalare a TV City situazioni di degrado ed abbandono. È una strada piena di erba e spazzature per tutto l'anno. Lei in che zona abita? Il Corso Vittorio Emanuele, Santa Teresa. E com'è la condizione lì? Eh, pure questa erba nelle ule, queste cose qui. Hai mai visto la città così sporca? A volte la puliscono e a volte no. Vuole fare un appello al sindaco? Un po' più pulizie. Anche a Via Madonna del Principio, soprattutto sul lato destro della strada, dopo la chiesa, l'erba è altissima, come del resto a Via Comizi, a pochi passi da Palazzo Baronale. Dovrebbe essere solo questione di tempo, visto che il piano di Serbo è finalmente partito. Ma i cittadini attendono da così tanto che ormai non ci credono più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.